Zingaretti io lo adoro, il commissario Montalbano, quello del lunedì, a me piace un sacco Zingaretti, il fratello però d'altronde, ma le stanno provando tutte, vi rendete conto che torna domani in televisione un giovanotto come Gad Lerner ma io non ho niente, anzi, ho detto lunga vita televisiva, io li vorrei in onda tutti i giorni Gad Lerner, Fazio, Saviano, Santoro, la Boldrini dalla mattina alla sera, perché più parlano più gli italiani si incazzano e votano la Lega quindi va bene, va bene, va bene così, gli farei commentare anche le partite del Milan, tanto peggio di così non può andare stamattina ero ai Fori Imperiali, una bellissima sfilata, donne, uomini, ragazzi, ragazze dai 20 ai 90 anni che sono l'orgoglio del nostro paese, che ci mettono la vita per difendere la nostra sicurezza, i nostri confini, la pace nel mondo e c'è qualcuno che invece ha detto che oggi era la festa dei migranti e dei Rom è il bello della democrazia, ragazzi, quindi fatemi dire grazie perché mai nella mia vita avrei pensato che ci sarebbe stata un'elezione come quella di domenica scorsa dove i cittadini del Lazio hanno scelto liberamente come primo partito la Lega e per me è qualcosa... è qualcosa... no, però qua c'è... c'è un tedesco da scegliere il cognome è quello che è, il cognome è quello che è perché uno mi viene in mente la Merkel e io dico oh no però qua c'è... c'è il tedesco giusto, ecco magari a sinistra si attaccheranno al fatto che il tuo cognome ricorda fantasmi del passato, è il razzismo, è le... dai, sorridiamo, io ho letto il vostro programma vi occupate di vita reale di quello che deve fare un sindaco, strade, giardinetti e insieme al ministro dell'interno mi piacerebbe che i giardinetti fossero a disposizione delle mamme e dei bambini non dei richiedenti asilo, degli spacciatori o di quelli che vanno... cose normali per gente normale quindi in bocca al lupo a voi perché il sindaco è la figura più importante di tutta la politica perché per caità c'è la regione, c'è l'Europa, c'è il governo anzi, a proposito, l'applauso non fatelo a me ma fatelo a lui perché il mestiere è più difficile e peggio pagato del mondo quello del sindaco e avrà bisogno di voi, eh? avrà bisogno di voi perché poi ci sono... anche perché poi non voglio portare Iella ma se il giudice è sbagliato se sbaglia a compilare la riga, il modulo 7 quindi in bocca al lupo poi avete una bella città, avete tanti giovani io spero di usare il voto che ci avete dato per cambiare l'Europa per rimettere al centro del dibattito europeo non la finanza, le borse, lo spread, le multinazionali il diritto al lavoro perché senza lavoro non c'è nulla diritto al lavoro significa diritto alla salute diritto alla vita diritto a farsi una famiglia diritto a farsi una famiglia perché se il primo lavoro con queste norme, questi vincoli e non puoi spendere, non puoi assumere il primo lavoro stabile te lo offrono a 42 anni perché fino a 41 anni stai ancora a casa di mamma e papà e perché sei precario, sei precaria e sei partita IVA sei artigiano, sei a tempo determinato e poi non si fanno figli no, riscommettere sui figli secondo me ce la possiamo fare perché a parità di condizioni gli imprenditori italiani, gli agricoltori italiani i marinai italiani, gli operai, gli ingegneri, i medici italiani sono i migliori al mondo messi in parità di condizioni con gli altri lavoratori europei dobbiamo solo chiedere parità di condizione quindi non garantisco vittoria certa questo non sta a me sta al buon Dio sta al lavoro, sta al coraggio sta alla fortuna però garantisco battaglia e quello che non perdono ai governi precedenti è che non ci hanno mai neanche provato perché se non combatti hai perso in partenza se combatti puoi vincere o puoi perdere io spero che vinceremo per noi e per i nostri figli viva Civita Vecchia in bocca al lupo Ernesto a voi in questa settimana casa per casa via per via negozio per negozio ogni voto fa la differenza ci rivediamo in questa piazza per festeggiare tedesco sindaco di Civita Vecchia in bocca al lupo grazie a te bocca al lupo di cuore grazie 290 voti ma l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto ragazzi tutti a casa che non so la domenica cosa c'è c'è ah c'è Fazio è vero no 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 sto scherzando però mi raccomando perché manca ogni a un ballottaggio si riparte da zero al ballottaggio si parte da zero a zero dimentichiamoci il 48 49 si riparte da zero anche perché i compagni sono bravi a trovarli anche dove non li hanno i voti e quindi fino all'ultimo minuto fino all'ultimo seggio fino all'ultima scheda elettorale e poi sono convinto che Civita Vecchia potrà tornare a essere la città che era e io ce la metterò tutta grazie in bocca al lupo grazie grazie Matteo grazie al nostro capitano grazie a tutto quello che ci sta donando grazie per averci fatto sentire di nuovo orgogliosi di essere italiani grazie grazie a tutti grazie Civita Vecchia grazie di tutto allora come al solito la sua generosità enorme per chi chi vuole fare le foto dalla destra del palco con calma Matteo saluterà ognuno di voi l'altra volta stavolta non le fa e le fa fare a qualcun altro anche perché domani come molti di voi mi alzo presto però se c'è qualcuno che l'altra volta non ha fatto la foto si entra ovviamente senza spingere ci sono bimbi bimbe signore signorine si entra ovviamente da destra mai da sinistra da destra sempre di là musica a te se fanno la foto al volo